Nella giornata di Sandra erano davvero pochi i ritagli di tempo in cui non era impegnata a pulire la sontuosa casa del suo capo. Questi ritagli di tempo non sentiva il dolore di essere stata abbandonata dal suo ragazzo. Tutto ciò cessò di esistere nel momento che vide l'immagine serena di un viso così delicato e divino da spezzarle il cuore. «Emily!» sussurrò. Le labbra di Sandra tremavano pronunciando il nome della sua bambina che aveva appena quattro mesi. Il mondo di Sandra si era capovolto dal giorno in cui aveva saputo di essere incinta. Il suo ragazzo l'aveva lasciata ormai da tre anni. Aveva detto che non era tagliato per essere padre. Sandra non aveva mai incontrato nessuno in questo mondo che fosse un padre o una madre. Fin da quando riusciva a ricordare si era sentita sballottolata da una casa adottiva all'altra, senza mai farsi dei veri amici o essersi mai sentita a casa. C'erano anni in cui era arrabbiata con il mondo, riluttante a ogni essere umano gentile e vulnerabile che si trovasse sul suo cammino. Ma quella rabbia era diventata sempre più vecchia e più spenta con il passare degli anni e quando era arrivata Emily si era completamente dissolta. «Prometto che veglierò su di lei. Posso essere per lei la madre e il padre che io non ho mai avuto», pensò mentre passava all'aspirapolvere sul costoso tappeto che ricopriva il pavimento di marmo nella casa del suo datore di lavoro. Era solo il suo terzo giorno di lavoro e sembrava già che stesse dando sui nervi al signor Russell. «Cosa pensi di fare, signorina?» la riprese lui. La sua voce debole ma arrabbiata la riportò di scatto alla realtà. «Stai usando l'aspirapolvere sbagliato sul tappeto sbagliato! Ancora!» Sandra arrossì per l'imbarazzo e la vergogna e corse nel ripostiglio in soffitta per correggere il suo errore. Le parole rabbiose del signor Russell continuavano a perseguitarla. «Se hai intenzione di essere distratta per tutto il tempo, ti suggerisco di cercare un altro lavoro. Vorrei vedere chi altro assumerebbe una sciatta come te!» Sandra non poteva evitare di sentire la voce dell'uomo o impedire ai suoi occhi di lacrimare, e il fatto che lassù non riuscisse a trovare lo strumento di pulizia giusto non aiutava di certo. Rovistò nel grande ripostiglio e si morse la lingua mentre una pila di stracci e secchi cadeva sul pavimento, facendo un forte rumore. «E cosa è stato quel rumore?» Il signor Russell urlò con impazienza e iniziò a salire le scale verso la soffitta. Sandra stava nervosamente rimettendo a posto tutto quanto quando ha notato qualcosa che è caduto dagli scaffali. Era un vecchio album di foto di famiglia e si è aperto su una foto che le ha fatto venire la pelle d'oca. Stordita prese l'album e diede un'occhiata più da vicino alla foto. I suoi occhi si spalancarono e si riempirono di lacrime. «Questa... questa sono io?» Sandra si chiese ad alta voce prima di crollare sulla sedia dietro di lei. Quando finalmente riuscì a riprendersi, vide il signor Russell che era rimasto in piedi in un angolo della stanza per tutto il tempo, solo che questa volta la sua voce si era addolcita e aveva le lacrime agli occhi. «Cassandra, sei davvero tu? Tu assomigli proprio a tuo padre?» disse l'uomo asciugandosi il viso. Il signor Russell ha riguardato la giovane donna sotto una nuova luce e ha potuto vedere chiaramente le tracce del suo migliore amico Matthew, il suo commilitone dal cuore grande che era morto tragicamente in un incendio diversi anni prima. «Mio padre... lo conoscevi?» chiese Sandra con un filo di voce. Il signor Russell è crollato sulla sedia dietro di lui e si è coperto la bocca. I suoi occhi rivivevano l'orrore, il dolore e la promessa fatta in passato. Matthew e il signor Russell, o Matt e Ray come si chiamavano affettuosamente, erano stati migliori amici durante i loro anni nell'esercito. Ray era orfano e non aveva famiglia ad aspettare il suo ritorno, mentre Matt era un uomo fortunato, sposato con una bellissima donna che gli scriveva bellissime lettere d'amore tutti i giorni. «Ray mi ha scritto di nuovo oggi, e guarda! Finalmente mi ha mandato una foto della mia bambina! L'ho chiamata Cassandra!» «Bella, vero?» disse con entusiasmo Matthew quel giorno mostrando orgoglioso al suo amico la fotografia della sua adorata figlia. Ray aveva guardato la foto e aveva sentito la gioia del suo amico nel proprio cuore. Tutto sembrava andare per il meglio per i due amici, ma purtroppo il destino sembrava avere altri piani. Il giorno successivo, Matthew è stato coinvolto in un incendio nel magazzino che era stato incaricato di sorvegliare. Morborando a fatica nei suoi ultimi momenti di vita, la sua mano debole mise la foto di sua figlia nelle mani di Ray. «Di lei che l'amerò anche lassù. Ricordi Ray, hai detto che non avevi nessuno per cui tornare a casa. Beh, adesso ce l'hai, mia figlia. Promettimi che veglierai su di lei. Promettimelo, così potrò andare.» L'ultimo singhiozzo del suo amico morente riecheggiava ancora nelle orecchie del signor Russell. «Mi dispiace tanto, Cassandra. Ho scritto a tua madre, ho cercato lei e te. Ma quando sono tornato dal servizio un anno dopo, eravate andate via senza lasciare traccia. Tua madre ti aveva portato in un'altra città. Voleva iniziare una nuova vita per il tuo bene.» Ammise infine l'uomo con gli occhi ancora bagnati di lacrime. Sandra scoppiò in lacrime mentre ricordava pezzi del resto della storia. Allora aveva solo tre anni e ricordava sua madre che l'aveva accompagnata da qualche parte. Era solo una bambina. Il cielo era limpido, il sole alto e brillante. Sua madre che cantava nel tentativo di nascondere le lacrime. E proprio mentre raggiungevano un luogo simile a una città con edifici e luci, un accecante lampo di luce si scagliò verso di loro e Sandra sentì la voce di sua madre e chiamava il suo nome per l'ultima volta. «Cassandra!» aveva detto. Ed oggi, anni dopo, la voce del signor Russell aveva la stessa pesantezza mentre pronunciava quel nome. È stato un miracolo che dopo tutti questi anni la vita abbia permesso a Ray di mantenere la sua promessa. E per Sandra, o Cassandra, come ha insistito di essere chiamata da allora, è stata una benedizione sentire la presenza di una figura paterna nella sua vita. Per il resto dei suoi anni, Ray ha fatto del suo meglio per recuperare il tempo perduto con la figlia del suo migliore amico. Ha accolto Cassandra e la sua bambina e ha fornito loro ogni lusso che poteva permettersi. Quando è arrivato il momento di andarsene, Ray ha lasciato tutto ciò che aveva guadagnato sulla terra a Cassandra e a Melie, la famiglia che gli era stata regalata da un amico incredibile. Questa bellissima storia è la prova che a volte si è così fortunati ad avere una seconda possibilità. Cassandra ha vissuto come un'orfana per tutta la sua giovinezza e Ray ha vissuto da solo nella sua villa, finché la vita non li ha finalmente riuniti in un modo inaspettato che ha cambiato le loro vite per sempre. Bisogna avere fiducia. La vita ti porterà a ciò che stai cercando anche se dovessero servirci anni. Ray aveva perso la speranza quando non era riuscito a trovare la figlia e la moglie del suo defunto migliore amico, ma anni dopo la vita lo ha sorpreso nel modo più inaspettato. Questo è tutto per oggi ragazzi, se questa storia vi è piaciuta cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.